Riparte la macchina del CSI Bergamasco ed è tempo di iscrizioni. Resta alta l'adesione delle squadre di calcio ai campionati. Per il calcetto scenderanno in campo 524 squadre, mentre per il calcio a 7 e per il calcio a 11 sono 1115 le squadre iscritte. Abbiamo chiuso le iscrizioni del calcio a 7 e del calcio a 11 la scorsa settimana e anche del calcio a 5 sabato scorso. I numeri si sono riconfermati almeno per quanto riguarda il calcio a 7 e a 11 e con un po' di sorpresa per la verità l'abbiamo anche un po' incrementato. Il calcio a 5 ha perso qualche squadra, poche per la verità, ma qualcuno l'ha persa. Credo che influisca molto sul calcio a 5 il caro palestre che comunque è diventato un problema per le società sportive, anche perché sono tutti gruppi di amici, pertanto diventa un po' un problema. Però devo dire che siamo soddisfatti, siamo soddisfatti del fatto che abbiamo tenuto soprattutto sui settori giovanili. Le società sportive sono state molto brave ed attente e hanno riconfermato tutto quello che era l'attività dello scorso anno. Vuol dire che era una grandissima attività, un merito veramente grande delle società sportive. La formazione rimane al centro della proposta sportiva del CSI. Lunedì 9 settembre partirà alla Casa dello Sport il corso per aspiranti arbitri di calcio. Restano aperte invece le iscrizioni al corso base allenatori di calcio che si svolgerà in sinergia con lo staff tecnico del settore giovanile dell'Atalanta. Riprenderanno anche i corsi di formazione con la stessa frequenza, la stessa attenzione che abbiamo avuto negli scorsi anni, proprio per gli allenatori e per i dirigenti. E credo che questo basti per rendere il CSI un'associazione che lavora sul territorio e che va incontro alle esigenze del territorio. Conto alla rovescia anche per il termine delle iscrizioni di calcio balilla, gioca gol, pallavolo e tennis tavolo. Chiusura prevista entro e non oltre sabato 14 settembre.